Gabriella, Gabriella, l'aiasolo, bella, brava! Per far ballare la ballerina ci deve essere una coreografa, Gabriella Contrupi! Ogni settore ha bisogno di un'alergia, saluto il regista Francesa Greci! Maestro, io ho finito per la mia scuola! Io dobbiamo fare un saluto, partiremo di nuovo a queste scuole, che sono più bellissime, meravigliose, non per la tecnici, e finora l'Istituto Don Lupi Colori, la mia scuola! Grazie a tutti, professoressa Fultino, ricordatevi che l'acqua con l'olio è stato scritto, quindi siamo l'ultima sesta data. Un saluto poi al magistrale di Polissena, che siamo molto fortissimi a vedere quest'anno, ciao a Alessia Fultone, che sono e hanno dato un messaggio di qui, e alla professoressa Amoratilo. Ancora il dio scientifico volta, che è venuto fino a Mazzicciola con l'ultima classe, e alla professoressa Ponello, grazie, mi piace tutti i maverandolici con la professoressa Fultone, e dunque il fungo di istituto di Artore, con la professoressa Landrelli. Dove è Artore? Artore! Adesso è un momento particolare, perché noi dobbiamo dare un riconoscimento anche, diciamolo, un attestato artistico, perché sono stati bravissimi. Io li voglio chiamare qui sul palco, perché è giusto che prendano il loro applauso. Allora, Federica Albiano, Rosa Guarnaccia, Cristiano Naccarato, Lile, Lom da Zefa, come si dice, e Morgana da Stefano. Dove sono? Invidiamo anche il mio Presidente della Cantecarmina, la vostra professoressa, la vostra curata, la curata. Hanno fatto le immagini e i disegni che avete visto scorrere durante lo spettacolo. Complimenti ragazzi, eccoli qua! Allora, l'attestato, sono stati bravissimi. Devo dire, Giacomo, un grazie particolare anche ai colleghi dell'Istituto Panella, tra cui io qua ci ho assegnato il professore Marzolla e anche la collega di Grafica. Sì? Sì, la collega di Grafica, che non ricordo... Sonia Giardina. Ok, Sonia Giardina, e la preside che ci ha concesso questa collaborazione, e che è la dottoressa Anna Lucera. Anna Lucera, grazie! 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 Allora, grazie ragazzi, avete fatto un buon lavoro, e allora applauso... Se volete fare un altro trotto fatto, no? Sì, grazie! Voglio aggiungere una cosa, questa è la Calabria che vogliamo e noi ce l'abbiamo, per cui tutto il resto è chiacchiera. Viva la nostra terra! Grazie ragazzi! Io devo parlare un po' con il maestro, prima di salutare. È successa una cosa strana, se voi avete notato, ve lo suggeriva anche Gabriella prima, mi ha detto, ma com'è possibile? Quando il maestro scende lì dal podio, la musica si interrompe. Vengo che le ho chiesto prima, che succede maestro, me lo spieghi? Io non so, faccio l'attore, poi senti, c'è anche una battaglia, perché è successo? E io devo dare una spiegazione. Questo è un paranoia, un ripeto magico. Magico, cioè... Basta entrare dentro e si chiama. Cioè, ora uno entra dentro e allora cominciano a... C'è un ciclo di legno, vuoi questa cosa? Ciao! C'è un ciclo di legno, vuoi questa cosa? C'è un ciclo di legno, vuoi questa cosa? C'è un ciclo di legno, vuoi questa cosa?